e di mattine quindi quest'oggi siamo a pranzo il primo posto è a Valeggio, provincia di Pavia, si chiama Antica Osteria Castello che è della Glozzo, vi faremo tra poco a vedere cosa si mangia qui da Mirko Grazie a tutti dopo questo straordinario antipasto della casa abbiamo ordinato il primo allo chef però facciamo farlo un primo di pesce a piacere suo, sarà sicuramente ottimo stiamo aspettando in attesa del primo ovviamente fumando una sigaretta Mirko il boss, qui è il boss, voi non fumate però, io non fumo cosa c'è di meglio? Allora io rientro da questo, meraviglioso, è già all'opera il boss la montagna del mio tiramisù dunque Lady Muffin, che dire? ho mangiato benissimo ce ne abbiamo mangiato bene, siamo allegri proprio da fare festa il nostro mio cuore di vinello lo consiglio a tutti non il giusto una bottiglia in due allora una bottiglia in due di bianco fermo una bottiglia in due Lady Muffin? e Tommy a canaglia e i grandi consigli, no? culinari e non e non